Andiamo a dare un decoro meritato a questa importante arteria anche commerciale perché ci sono chiaramente negozi, gli arancetti erano in una condizione un pochettino problematica quindi abbiamo deciso di intervenire. Devo fare un plauso veramente in questo caso agli RMI che tante volte sono criticati da parte dell'opinione pubblica ma in realtà sono veramente un grande aiuto per l'amministrazione perché ci vengono a supportare in questo caso con gli interventi di potatura o nelle scuole piuttosto che anche piccoli interventi di pulizia e decoro urbano. Quindi il mio plauso va sicuramente al settore dei lavori pubblici che ha organizzato il lavoro ma sicuramente agli operai, quindi agli RMI che stanno facendo questo intervento. Altri interventi in città? Assolutamente abbiamo già battuto 150 palme e triturate ovviamente quindi stiamo intervenendo anche da questo punto di vista e stiamo continuando senza fermarci sia con Gelas che con ditte private per velocizzare questo tipo di intervento.